Eccoci in quello che oramai per noi è diventato un appuntamento annuale mio e di Alessio Orsinger che è molto più bravo e più bello di me e mi aiuta a fare queste presentazioni. Quest'anno abbiamo delle cose veramente interessanti, tutti i dati dei lavori che ha fatto Alessio durante l'inverno con il suo tagadà e i suoi documentari e il mio nuovo libro che si chiama Le due mogli del re ed è incentrato sulle vite parallele di Diana e Camilla. Dice che cosa c'entra? C'entra e ve lo spieghiamo. Alessio. Innanzitutto grazie per essere qui, abbiamo anticipato l'orario rispetto agli altri anni e c'era sempre un po' la sindrome Luisa Katia e Mara verso Oriente, te lo ricordi? Quando venirei Ricciarelli e arrivarono a prima serata di Rai 1 a Lecce dopo aver fatto lunghe prove arrivarono sul luogo della serata e piove a dirotto e quindi andò... Ecco sì, avevamo un po' di... però insomma... L'abbiamo scampata. Non lo direi... No, direi... Per ora sì. L'abbiamo scampata lassù, dai, diciamo di sì. Dateci un'oretta, poi potete piovere quanto volete. I dati che diceva Luisa sono molto interessanti perché ho chiesto alla divisione digital di La7 di spulciare un po' i numeri dei profili TikTok e Instagram della rete, che è una rete che ha come core business, lo sapete, la politica, l'economia, non certo il costume, le vicende dinastiche e quant'altro. C'era una volta il Novecento, abbiamo provato a introdurlo, però non è appunto il core business. Allora, vado a leggere per non sbagliarmi, visto che abbiamo fatto i compiti... Abbiamo fatto dei compiti incredibili, siamo anche secchioni, questa è la verità. Sul profilo TikTok di La7, che rispetto all'anno scorso ha raggiunto un numero di difruizioni e di follower molto più ampio, grazie al lavoro dei colleghi, il video in cui viene dato conto della preparazione del funerale di Re Carlo III, che non è una notizia di per sé, ma che il pubblico non esperto percepisce, può percepire almeno come una notizia. A scuola ti spiegavano che la differenza tra una notizia e un accadimento, è un accadimento. È un accadimento, anche una prassi, se vogliamo. È tra i dieci video più visti su TikTok di tutta la stagione televisiva. Dieci video più visti vuol dire che più di questo video, che è un video in cui si dà semplicemente conto della procedura costituzionale che viene seguita per preparare il funerale di un sovrano regnante, è stato superato soltanto da alcuni video di Alessandro Barbero, di Stefano Massini e da uno speech di Paola Cortellesi, che come sapete è il fenomeno cinematografico della stagione. Esatto. Il suo C'è ancora domani. Esatto, bellissimo. Ci sono 168.000 visualizzazioni, moltissime condivisioni, più di 5.000 commenti e se allarghiamo il raggio ai 20 video più visti ne compare un altro, che è quello in cui si dà conto del pasticcio per la foto di Kate Middleton che apre a tutta una serie di waltzer, di polemiche e di discussioni, ti stupiscono questi dati? Ma mi fanno felice, perché significa che si è lavorato, si è lavorato bene, perché siamo riusciti, merito tuo in gran parte della serietà della trasmissione e del lavoro che faccio io da tanti anni, ma da sola non sarei arrivata da nessuna parte, e siamo riusciti a spostare l'ottica del lettore, del fruitore, dal mero gossip a una parte che è a metà tra la cronaca e la storia, con elementi anche di relax. Questo accadeva più facilmente quando magari c'era la fuga di Lady Diana con Dodi. Nell'ultimo anno purtroppo abbiamo assistito più a Lutti che ad altro, eppure con il lavoro fatto in un certo modo, fatto bene, seriamente ma senza pretesa di seriosità, cioè di noia, di appesantimento, spiegando le cose in modo piacevole, siamo riusciti a spostare questa attitudine. E quindi il lettore, l'ascoltatore e il fruitore hanno seguito. Questo mi fa molto felice, anche perché seguo queste cose da tanti di quegli anni che non mi aspettavo tutto questo successo e tutti questi commenti. Una volta c'era un po' il commento, e chi se ne frega? Cioè io, ora, sapete che sono un po' con una testa matta. A me una volta sono andata a cena da una signora che peraltro conoscevo molto poco, mi saluta, buonasera, buonasera. Sto lì con il mio sorriso cordiale, il mio bicchiere di champagnino in mano, quando una signora mi fa, sono tal dei tali, ho piacere, dico io, dice lei di che cosa si occupa? Dico, ma io faccio la giornalista, e la ospite dice, sì, e si occupa di reali. Questa si guarda, mi gira le spalle e mi fa, a me i reali non mi interessano. E io le ho detto, perché a quel punto mi ero anche un po' offesa, e che cosa le interessa, signora, lei di che cosa si occupa? Dice, ah no, io i giornali non li leggo. Ah, dico, allora è un problema di ignoranza suo. Touche. Touche. Cioè, voglio dire, non ti interessa, non me lo dire. Dice, ah beh, buongiorno, ti giri, ci sono tante altre persone, vai a salutare. Non c'è bisogno di essere antipatici per forza. Oppure sì, non lo so. No, secondo me non c'è bisogno. Comunque, questi dati ci danno delle cose importanti. Delle cose, tra l'altro, con un non personaggio. Perché abbiamo Carlo, fino a quando si parlava di Elisabetta, tutti i Santi aiutavano. Diana, lasciamo perdere. Invece siamo cambiati. E questo è importante. Questo però sta nel discorso documentario. E questa è una cosa che devi spiegare tu. Allora, sì, perché per quanto riguarda la scelta e la riproposizione sullo schermo dei documentari, su 142 puntate di C'era una volta il Novecento, il 15% ha avuto un documentario o più documentari a tema royal. E la nostra partner in crime, mia di Luca Sappino, è stata l'ottima Erry Maciuni, ovviamente. Con ascolti che sono stati sempre o nel rispetto della media, in un anno che è stato ricco di avvenimenti, soprattutto per quanto riguarda la politica estera, con le guerre, con la questione medio orientale, l'Iran, la Russia, la morte di Alexia Inavalni. Oppure sopra la media, con il picco che è stato raggiunto, sempre con Luisa Ospite, in una puntata speciale, in diretta, che si è concentrata sullo stato di salute della principessa Kate. Eh sì. Ma non solo, perché quest'anno hanno avuto un ottimo riscontro, a differenza dell'altro anno, i documentari in cui si metteva a paragone il rapporto tra la monarchia inglese e il nazismo negli anni 30 e 40 e il dibattito politico attuale, perché questa risalita della destra e delle destre ha dato in qualche modo l'astura anche a una definizione di interesse più ampio rispetto al rapporto che gli inglesi, i reali inglesi, hanno avuto con il nazismo. E anche qui è un tema interessante, Luisa, perché Carlo non ha suscitato in sé grandi interessi. Eh beh, solo a cambiare la pace. Che re è stato quest'anno? Carlo è uno che si trova tra l'incudine e il martello. Lo dico, è una mia... Io lo... Se non fosse che non si può scrivere, lo direi sfigato, solo che non viene bene. Perché è un uomo di grandissimo valore personale, istruzione, preparazione, senso del dovere, l'abbiamo visto, questo è uno che ha finito la chemios, è messo la giacca, è andato a lavorare come ha fatto sua madre fino all'ultimo momento. Quindi, chapeau. Però è una figura nata forse per fare il gentiluomo di campagna. Lui è un appassionato di architettura, di agricoltura biologica. Per fare il re bisogna essere un filo più carismatici. E forse del carisma avrebbe potuto anche guadagnare nella sua vita, se non fosse che è stato schiacciato prima dalla figura della prima moglie che lo obnubilava completamente, poi da quello della madre. È un uomo che è diventato re, cioè ha fatto, ha preso il ruolo per cui è nato a 75 anni. Quindi ha voglia tempo di star lì anche a ripiegarsi su se stesso, occuparsi di altre cose. Quindi Carlo è destinato a non essere una persona particolarmente popolare. Poi la vita gli ha dato un colpo di reni. Con questa malattia e il modo di affrontarla, molto da Windsor, molto elisabettiano, cioè della serie, io sono malato ma sono qua. Cioè, schiena dritta è andato a farsi curare, l'ha detto a tutti, la gente lo sapeva. Sono argomenti con cui non puoi mentire, perché quello che hai tu ce l'ha un sacco di gente, quindi la gente lo sa cosa ti fanno, come ti senti, sa che magari hai più comodità degli altri. Questo sì, sicuramente non devi andare nell'ambulatorio pubblico a fare la coda, però sa che dopo stai male e puoi essere il re d'Inghilterra o un minatore gallese, stai male e basta. Eppure con questa sua integrità, perché si deve dire così, con questa sua spalle dritte, è già tornato, si vede che è verdastro, perché lo truccano, scusate, questo è un dettaglio. Ha perso peso con questa moglie che è stata lì a fare tutto quello che doveva fare lui. Buffa, un giorno aveva un orecchino in un modo, un giorno in un altro, un altro, tutto il tagliere, abbottonato sbagliato, questi hanno detto sì, però come era la forza di Elisabetta, tutti sapevano che quella donna ogni giorno si sarebbe alzata e si sarebbe occupata del suo paese. Ecco Carlo è riuscito a far capire questo agli inglesi. Poi carisma, poi fascino, poi il tempo, perché ha avuto un anno. Cioè, nella sfiga, dite che non è sfigato, nelle sfighe c'è anche questo. Hai un anno a disposizione e ti capita di tutto. Dalle elezioni, ti ammali tu, si ammala la perla della corona, perché il gioco, diciamo, deciso tra lui e William, essendosi levato Harry, è andato a vivere negli Stati Uniti, era questo. Io e Camilla ci facciamo tutte quelle cose interessantissime, tipo il Commonwealth, i viaggi per svelare delle targhe a qualche ammiraglio sconosciuto, le biblioteche, queste cose, e voi fate tutto il glamour. Sembrava perfetto, due giovani, belli, eleganti, di 40 anni, ta, si va ad ammalare. E la palma del, diciamo, la mondanità resta in mano a Camilla. Ecco, mi interessa questo. E Camilla ce la fa, a modo suo. Certo, però, chiaramente, il piatto piange, ragazzi. Mi interessa questo, perché nel tuo libro, Le due mogli del re, tu parli sia di Diana che di Camilla. Su Camilla, io andrei alla pagina 76, perché tu ricordi quando, alla fine degli anni 80, vado a leggere, il duca di Edimburgo, da sempre in poca sintonia con quel figlio indeciso e sentimentale, non tollerava più la situazione. Cioè, diciamo, il famoso, come è, due piedi, un piede in due scarpe. Intendiamoci, della storia di Carlo, con la moglie di un altro, non gli importava un fico secco, almeno finché non scoppiava lo scandalo. No, lui esigeva che il figlio trovasse una moglie e mettesse su famiglia. Serviva un'erede per la corona e anche alla svelta. Carlo, se no, che cosa era nato a fare? Nasce sotto questa luce il rapporto e l'ingresso nella famiglia reale di Camilla Shand? Beh, sì, nasce sotto questo aspetto, è un aspetto problematico, perché, diciamo, come abbiamo sottratto un poco l'argomento al gossip e alla chiacchiera, io sono andata a leggermi un poco di materiale tecnico, più esattamente un materiale che è pubblico ma che sembra non interessare a nessuno, che sono i diari e le lettere di Carlo, lui le ha rese pubbliche. E non lo ha fatto adesso che potrebbe averle aggiustate, l'ha fatte 30 anni fa. Quindi sono intatte. Dobbiamo mettere il bollino rosso? Ci vuole il bollino rosso, sì. Mettete Anna e i bambini anche al mattino. E nel momento in cui gli viene imposto di sposare Diana, perché il Luca di Edimburgo fece la classica levata di Scudi, se la frequenti la sposi perché potresti danneggiarla socialmente. Dico Santa Pace, è vero che eravamo negli anni Ottanta, ma questa era una mentalità degna della regina Vittoria, primi anni del regno, neanche inizio Novecento. E lui scrive in una pagina molto spontanea, dice io sono follemente innamorato di Camilla, sto benissimo con lei, non ho nessuna voglia di sposarmi per contentare qualcun altro. E qui avvenne un omicidio psichico che è quello di lui, che fu obbligato a sposare questa ragazza, e un secondo omicidio che è quello di Diana. Camilla restava sullo sfondo. Diana sappiamo come si sia offesa, abbia spiegato a tutto il mondo la sua rabbia, la sua disperazione, e che vita abbia fatto. Camilla è rimasta zitta. Ma io, la donna me lo devo chiedere, cioè se lui, la storia era importante, era una storia grave, cioè loro erano già stati insieme da ragazzi, e poi si erano separati, li avevano separati e lei aveva sposato Parker Bowles. Il matrimonio era andato subito male, però quello che, l'omertà dell'aristocrazia inglese è pari a quella dell'interno siciliano, ma degli anni 50, perché adesso potrebbe essersi un po' logorato. Quello che tutta Londra sapeva è che due, tre anni dopo questo disastro di trovarla sposata con un altro, la storia era ripresa, ed era ripresa in maniera seria. Non erano più due ragazzi, erano due persone che si avviavano oltre i 30 anni, che stavano insieme, che avrebbero avuto il diritto di progettare una vita insieme, dato che sono ancora lì, che se la raccontano, andando verso i 50 anni, e passa di storia. E improvvisamente arriva questa coltre vittoriana addosso per cui lui deve sposare un'altra, lei deve sparire. Ma c'entrava anche la verginità? Eh certo. Certo, perché la ragazza Shend, che è stata vituperata in tutti i modi, ma che comunque faceva parte del loro ambiente, Camilla Shend è figlia di una, discende da un baronetto, non è nobile come Lady Diana, comunque non le manca niente dal punto di vista del, diciamo del... Del blasone. Del blasone. Aveva anche fatto la scuola di perfezionamento, si vede che è una donna che insomma, è vero che sono 50 anni che è basica Buckingham Palace, però anche da prima era abbastanza abituata. E poi sembrava nata per piacere a Windsor, grande cavallerizza, grande pesca, andava a pesca, camminatrice, amante dei cani. venne ritenuta una donna inadatta perché non era vergine al tutto questo negli anni 70 a Londra, Swinging London, Beatles, Hair, meravigliosi musical, rivoluzione sessuale, questi vivevano esattamente come, non lo so, come cento anni prima, come se ancora la regina Vittoria fosse viva. ed era una vicenda catastrofica per cui con una brutta o doppio pesismo, una brutta morale doppia, li lasciarono stare finché a un certo punto, sì se no, si deve sposare. È nato per fare il re d'Inghilterra, deve avere un'erede. Nel mondo normale chiunque avrebbe detto vabbè la signora Parker Bowles divorzia e tu sposi la città, non sarà prima l'amica, sarà mica il primo matrimonio tra divorziati, che esiste, è vero. Siamo nel 1982, cioè, persino in Italia il divorzio era passato, con il referendum. Paesi ben più religiosi, questa era una mentalità un po' da pasdaran, e invece niente, Camilla deve sparire. Tutta l'aristocrazia inglese conosceva la vicenda, tranne Diana, perché aveva 19 anni, i suoi se ne infischiarono. presi dal, se vogliamo, abbagliati dall'idea di maritare la figlia ai piedi del trono, di avere una regina in casa, e la ragazza andò al massacro. Ora, sempre nei famosi diari, e in varie interviste, e in varie altre cose che si possono, di cui si ha conoscenza, effettivamente Camilla sparì. Ma non è che sparisci dall'anima di una persona. Diana, che tra mille difetti e mille virtù, aveva sicuramente quella di una empatia eccezionale, una capacità di capire le cose, le persone, di intuire, lo capì subito. Capì subito che non sarebbe mai, che se c'era una donna che contava, quella non era lei. Poteva esserci o non esserci, poteva essere a 50 chilometri di distanza, poteva essere pure in un altro paese, ma lui pensava a lei. Sai cosa mi viene in mente? E questo fu la tragedia di due persone, anzi di tre, perché ripeto, di Camilla non sappiamo, però si può immaginare che contenta non fosse. C'è stato un film qualche anno fa, con Scarlett Johansson, Eric Bana e Natalie Portman, che si chiama L'altra donna del re. Le protagoniste però erano le due sorelle Bolena, Anna e Maria Bolena. E non è un caso se abbiamo citato l'amica e collega Anna Bolena in questo nostro dialogo, perché Anna Bolena è stata la donna dello scismo anglicano, con lei che ha fatto divorziare Enrico VIII da Catalina d'Aragona, e quindi dando il via ad un'altra religione parallela e contrastante rispetto a quella di Roma. Esatto. Nel tuo libro, nel primo capitolo, tu ricordi cosa disse Elisabetta II, prima di morire, rispetto al titolo e al trattamento che Camilla avrebbe dovuto avere una volta morte Elisabetta. È mio sincero desiderio, quando verrà il tempo, che Camilla sia chiamata regina consorte mentre continua il suo leale servizio. Quindi non più principessa consorte, come era sembrato all'inizio quando è stato ufficializzato il matrimonio e celebrate le nozze. È la chiusura dello scismo anglicano? Dal punto di vista religioso no, però anche dal punto di vista storico sì. Cioè, quella che non si voleva, cioè la battaglia per il divorzio di Enrico VIII, che poi si divorziò perché il Papa rifiutò decisamente di considerare nulle le nozze con Caterina d'Aragona e quindi se ne andò per gli affari suoi, si sono, diciamo, aperte davanti al fatto che oggi c'è una regina divorziata, non importa niente a nessuno, grazie al cielo, è una regina che è stata incoronata, Ma come si chiama? Regina o regina consorte? No, lei si chiama regina per volere di Carlo. Il problema è abbastanza, diciamo, intricato, perché in sincerità, in un mondo moderno, lei dovrebbe chiamarsi regina consorte in quanto regina era Elisabetta, cioè regnano, usava il titolo per regnare. Per proprio regnare. Quindi come Carlo è il re, il duca di Edimburgo era il principe consorte. Carlo, che su Camilla è, come si può dire, piuttosto testardo, non ne ha voluto sapere e ha imposto che venisse chiamata regina come prima di lei, la regina Mary o la regina Alessandra. Camilla in realtà non ha nessun potere costituzionale, non ha neanche figli minori, quindi non è neanche la madre dell'erede al trono, però lui non ne ha voluto sapere, regina è. Potrebbe prendere delle, diciamo, dei titoli nel caso, dei titoli, dei ruoli, nel caso a Carlo succedesse qualcosa, però è vero anche che c'è il principe di Galles che ha 40 anni e quindi questo è difficile. Diverso era quando Diana andò in televisione, al famoso vorrei che se ne andassero, restassi io, Carlo se ne andasse via, e rinunciasse al trono, restassi io con William, perché lei a quel punto chiedeva lo stato di reggente. E quindi questo era assurdo, Camilla non può pretenderlo perché non è madre dell'erede e quindi ha 40 anni, caro William, eccetera. Sì, si è saldato uno strappo, uno strappo che forse la storia aveva saldato, ma sicuramente oggi c'è una divorziata, appunto unta addirittura nella cattedrale di Westminster, c'è un'altra divorziata in Spagna, c'è una ragazza madre in Norvegia, grazie al cielo i fantasmi della regina Vittoria si sono dissolti. E questo è importante perché sempre tante volte noi italiani, che per nostra avventura siamo repubblicani, abbiamo un certo disprezzo per queste monarchie del nord Europa, cioè siamo piuttosto scissi. I paesi del nord Europa sono visti come paesi meravigliosi, dove si vive benissimo, si è molto liberi, fa freddo però, ci sono un sacco di cose belle. E poi però ci sono questi qui. Cosa fanno? Cosa vogliono? Beh, sono dei sovrani democratici, molto amati dalla popolazione, come lo sono i sovrani inglesi. Cioè, se per noi italiani fu una battaglia, ma venivamo da un'altra storia, una storia pesante, una storia di periodi terribili, svolti anche in queste zone per molti anni, per loro non lo è. E quindi non si è più o meno democratici se si vive in una monarchia, in una repubblica, a meno che non si viva, che so, in Thailandia, dove c'è una monarchia un po' particolare. L'Europa ha delle monarchie assolutamente democratiche. La Spagna, mi viene in mente da citare, la Norvegia, la Svezia, il Belgio e l'Olanda, e dove i cittadini sono liberissimi, non sono sudditi. E un certo modo di ragionare, di pensare, un po' parruccone, se vogliamo chiamarlo, dove ci vuoleva la regina vergine, questo, quello, grazie al cielo non c'è più. E anche questo, per fortuna, possiamo testimoniarlo e possiamo parlarne. Perché oggettivamente, se si pensa che nel 1980 un uomo fu strappato a una donna che amava profondamente, e che ama ancora, quindi questo dà la dimensione. Cioè, Carlo e Camilla si conoscono che hanno 20 anni, ne hanno 76. La storia ha detto, cioè, non c'è che fare, ragazzi. Però, in tutto questo, sono andati a massacrarsi, lui, lei, e Diana. E ragazzi, tanto bene, non sono venuti su. A proposito di Diana, in un passaggio del libro, tu ricordi il contributo di innovazione che suo malgrado Diana ha dato alla corona inglese rispetto alla modalità di racconto dei sentimenti, cosa che faceva molto infuriare Anna, la principessa reale, il vero re mancato della famiglia Winsor. Ricorda Luisa, la salutiamo sempre con grande affetto la principessa reale, non capisco perché un bambino dovrebbe essere felice di venire preso e baciato da una perfetta sconosciuta rispetto ai bagni di folla che Diana si concedeva prima e dopo il divorzio con la folla, con gli sconosciuti in tutto il mondo, peraltro. Quanto questa modalità di racconto del dolore, dell'emozione, del sentimento sopravvive nel racconto della malattia della principessa Catherine? Guarda, questa è una domanda cattiva, nel senso che è difficile rispondere, mi spiego meglio, Diana fece un miracolo, come è possibile che una ragazza di vent'anni vestita malissimo, pettinata peggio, bella, bella lei, bella come il sole, a magnifica vedersi, però con certi collettoni di pizzo rosa che erano un incubo, ci voleva l'armocromista, certi cappellini di tartan che uno diceva ma perché? Cioè, chi è stato? Un nemico sicuramente l'ha vestita così, qualcuno che le vuole male sia riuscita a creare un mito di se stessa e questo prima che arrivassero i sarti inglesi e poi quelli italiani che erano meglio ancora come Versace o Chanel stesso è un miracolo così come la sua spontaneità, questa capacità di parlare con chiunque, di sorridere, di scendere a toccare le persone, beh, da Diana in poi le mogli di uomini di potere, le donne di potere hanno dovuto seguire il suo modo di fare, non c'è stato più verso. Poi è arrivata Kate, Kate è una storia a parte perché non è un ritorno indietro, non è neanche diversa e molte volte sui giornali leggo alle somiglianze tra Kate e Diana. E l'insindacabile opinione della Cioni sul tutto? E l'insindacabile opinione della Cioni sul tutto? Dico, vabbè, siete pazzi. Cioè, fisicamente non si somigliano. Se l'avete pensato siete pazzi. Psicologicamente non si somigliano. Ogni tanto hanno dei vestiti uguali, ci credo, vanno negli stessi posti. Allora, se io e quella signora dobbiamo andare a un funerale probabilmente ci mettiamo un tubino nero. E non è che però siamo simili. Cioè, siamo in posti simili quindi ci comportiamo in maniera analoga. È difficile che... Se uno deve deve fare per forza l'apertura della cattedrale gli serve un cappello. I cappelli sono quelli alla fine. Comunque, Catherine ha ha spostato l'attenzione di Diana che era tutta sul sentimento. Salutiamo il grande capo nel frattempo che c'è dal segnale dell'orario. Sì, dell'orario meno male perché non lo sapevamo. Esatto. Era basata tutta sul sentimento, tutta su questa forte empatia che forse era anche un bisogno necessario in quel momento contro un modo di essere dei reali asettico, freddo, scostante. La regina è stata vista piangere in pubblico tre a quattro volte di cui una una strage di bambini per dire. Comunque, lei aveva liberalizzato la lacrima ma comunque in quel momento piaceva così. Questa ragazza invece si è imposta piano, piano, tanto Diana scoppiò. Fu fotografata con la con la gonna in controluce un bebè in braccio e un'ora dopo era già mito. Caterine è andata a piano e ha spostato l'attenzione più modernamente sullo sport, sulle attività per la salute dei bambini, per la salute mentale che sono forse, le sono forse più attinenti. Non ha potuto lasciare dietro di sé il modo di fare di Diana, quindi sempre vai a salutare, prendi il bambino, offri lecca-lecca, sorridi molto, però a questo punto lei ha invocato su se stessa la privacy, ha detto signori, prima ha detto un po' di roba. Ma l'ha invocata lei o l'è stata imposta? Secondo me l'ha invocata lei, questa ragazza ha molto più testa di quello che si pensa e ha molta più capacità decisionale di quello che si pensa, anzi io comincio, grazie, no prego, si accomodi. abbiamo capito, abbiamo capito, no, facciamo tutti insieme, tipo il risveglio, il saluto al sole, stavo dicendo, ha molte capacità, più di capacità decisionali di quello che si pensa, lei ha chiesto per sé la privacy e questo l'è stato concesso anche qui evidentemente ha captato una novità cioè questo bisogno di privacy delle persone in un mondo così sovraesposto soprattutto nella malattia e effettivamente gli inglesi la stanno seguendo problema la privacy non è che la puoi invocare come vuoi tu cioè allora vai a fare l'inaugurazione con i bambini vuoi le foto ti ammali sventuratamente basta purtroppo se sei un personaggio pubblico sei un personaggio pubblico e poi dai io vedo qui in platea un autorevole direttore di giornale quando a tutti noi arrivano le notizie le foto di qualche personaggio pubblico vengono pubblicate le foto perché lo stato di salute di una principessa del sangue è una notizia politica non è una notizia di gossip alla 7 ci occupiamo delle vicende reali perché sono prima di tutto vicende politiche in certo senso di natura politica il fatto che Carlo III stia poco bene e sia in una situazione di cura chemioterapica è una notizia politica è certo anche perché adesso poi ci saranno le elezioni anticipate tutte le vicende che conosciamo lo stesso vale per Katrin non rischia di essere una strategia controproducente questa perché poi arriva il terrapiattista di turno che dice faccio un esempio perché è circolata anche questa ipotesi che il vaccino l'avesse distrutta ma si è visto si è visto che sono arrivate dei boatos inauditi io ho una signora che mi scrive tutti i giorni che è convinta che sia già morta e mi dice ma lei perché non lo scrive non lo scrivo perché non sono pazza che fonti ha questa nessuno ha fonti guarda c'è un brutto girare di documenti che non si che costosi che dicono di essere le cartelle cliniche di catering ci sono persone che giurano di sapere tutto sono altro non trattasi che di mitomani perché oggettivamente c'è una cappa di chiusura su questa malattia il problema è che le notizie e noi lo sappiamo anche le migliori prima o poi scappano mi spiego meglio se a dicem a gennaio agli inizi di gennaio dicono che torni a Pasqua a Pasqua non torni dovresti tornare a giugno a giugno difficilmente io me lo auguro perché per me è lavoro dovrebbe tornare a Troop in the Color probabilmente non torna l'altro ieri il Daily Mail diceva che torna in Audunno allora tu mi dici che stai bene stai facendo una chemiodifensiva col cavolo che stai bene perché da gennaio a facciamo ottobre sono dieci mesi vuol dire che hai una brutta botta io mi auguro che stia meglio che guarisca che si riprenda che torni tutto bello come prima ma non mi devi dire che non hai niente o che è una cosa così che fai una chemiodifensiva no perché come Carlo ha avuto l'intelligenza la gente lo sa che cosa succede anche qui lo sa se stai via dieci mesi non è stata una cavolata quindi sarebbe bene che prendessero nel rispetto ecco se lei chiede rispetto che non vuole che arrivino le sue foto sconciate perché probabilmente avrà perso i capelli come capita a tutti perché anche oppure molto palida molto dimagrita giustamente senza più la voglia di farsi sempre bella elegante eccetera lo posso capire ma dicano qualcosa perché così non si capisce più niente e naturalmente che cosa succede una follia quella che crede che è morta quello che dice che in realtà è scappata all'estero ha divorziato perché William amante di William deve sposare Rose Embury quell'altro che dice che in realtà non lo so l'hanno portata via i marziani cioè purtroppo nell'epoca dei social tutto e il suo contrario diventano padroni delle notizie però Luisa se ci fosse stata Elisabetta Regnante e per la povera Katrin si fosse riproposto il medesimo problema di salute il tipo di comunicazione sarebbe cambiato oppure no? Sì sarebbe cambiato sarebbe rimasto il metodo di comunicare che aveva deciso e definito per tutti il Duca di Edimburgo il quale per circa 70 anni il tempo di regno di Elisabetta ci ha fatto pensare che i Windsor non si ammalassero mai perché non si ammalava mai nessuno una volta Carlo si è rotto un braccio però siccome è successo in pubblico non hanno potuto negarlo difatti ho letto un articolo che mi ha molto divertito sul Times che diceva a proposito di queste che mi diceva ma ci prendete per stupidi dice tanto vale tornare al al metodo di comunicazione che aveva il Duca di Edimburgo che faceva dire che ne lo so ieri il principe d'Italia è stato ricoverato per all'ospedale Santa Caterin di Londra il suo umore è ottimo e chiudeva dice tanto vale a dire così mia nonna diceva quando qualcuno ti chiede come stai si risponde sempre bene grazie tu giacché si sta bene anche in punto di morte dicevano sì più o meno cioè loro avevano dice ma non si era infatti uno dice ma come la regione di Saleta non ha mai avuto un'influenza non ha mai no bastava non dirlo loro non dicevano niente adesso hanno detto però non dovete dirlo e no ragazzi così non andiamo da nessuna parte io lo dico perché quando ti scrive una guardi che è morta calma un attimo fammi vedere il cadavere perlomeno cioè io faccio un altro mestiere io non posso scrivere a orecchio è morta vediamo cioè però modestamente dovrebbero instaurare un modo di comunicare prudente corretto civile non c'è bisogno di urlare non c'è bisogno di urlare non c'è bisogno di dare dettagli di bassa macelleria però definito e dire guardate bollettino medico proseguono le cure la principessa si potrà vedere in data tal dei tali o a data da destinarsi non sto meglio faccio una chemiodifensiva no non fai una chemiodifensiva probabilmente sei a pezzi ragazza basta senti Luisa ti darò una notizia che potrebbe renderti felice te l'ho lasciata in chiusura perché tra i documentari che in questa stagione dicero una volta il novecento hanno avuto una pil minore per il pubblico ci sono quelli che riguardano la coppia dei Sussex cioè Harry e Meghan ma tu come fai a sapere che io non li sopporto così sono andato un po' un po' un po' un po' un po' un po' intuito un po' intuito e oltre al giubilo non so se vuoi intonare God Save the King per questa per questa notizia ma posso intonare God Save the Chuni God Save the Chuni God Save Our Gracious Chuni sono d'accordo l'avvicinamento della coppia Sussex in virtù dello stato di salute precario di Catherine e di Carlo è un qualcosa che sta nel Fanta Royal oppure no? no non sta nel Fanta Royal perché anche gli inglesi ci sono dei commentatori inglesi che chiedono il ritorno di Harry perché c'è bisogno di braccia per fare che come si dice a Roma perché perché William è fuori combattimento abbastanza alla grande Catherine sa il cielo quando può tornare tanto che si sta pensando di mettere in prima fila la principessa Beatrice la figlia di Andrew di Sarah che è quella che adesso tutta ben vestita e ben pettinata di fatti si vede sempre di più ed è uno dei fattori che fanno pensare che Catherine non stia bene io ripeto spero solo che quando le cure finiranno la ragazza si riprenda a 42 anni tre bambini io spero solo che vada a star meglio però non siamo ragazzini una botta simile è una spada di Damocle addosso quindi io spero che torni anche se torna relativamente guarita o in remissione perché queste cose guariscono relativamente e lavoro per un bel po' ne potrà far di meno quindi come si dice da noi servono altre due braccia e la principessa Beatrice le due braccia servono sì le altre due braccia servono quelle di Harry e di Meghan che si sono dimostrate diversamente fedeli alla corona servirebbero quelle di Harry a dire la verità servirebbero quelle di Harry lei non la vuole nessuno perché e lei non vuole poi convince Meghan e soprattutto lei non vuole loro cioè lei è americana lei è americana non gliene importa niente dei loro problemi non gliene importa niente delle necessità che ha la corona quello che doveva fare la faceva delirare è repubblicana è addirittura nigeriana adesso che abbiamo visto il suo viaggio in Nigeria quindi proprio ha altri interessi non si cioè dobbiamo anche capire questa è una ragazza che proprio non si è amalgamata forse non ha mai neanche cercato di farlo ma lui no lui è un principe del sangue quindi loro molti dicono per carità richiamatelo perché ci sono delle cose in cui l'allegria di Harry la capacità di fare di Harry che è stato educato per fare quel lavoro è servono cioè quando William deve fare le onorificenze il party tal dei tali e le cose se potesse dare un incarico al suo fratello che lo sa fare uguale sarebbe una bella cosa e sarebbe anche una cosa bella da auspicare cioè che tra due fratelli fessasse la faida però con quello che è successo le ultime arrivate a Londra intoccata e fuga il cagnolino non vuole che Harry e Meghan non ritornino a corte non vogliono sta protestando e la rissa tra e soprattutto l'aggressione a Catherine mi pare difficile che cioè Carlo potrebbe anche volerlo ma secondo me non può litigare così anche con William William proprio non li vuole né vedere né sentire mettiamoci in minuto nei suoi panni lui orfano finalmente trova un po' di serenità con questa ragazza hanno tre bambini fanno il loro bozzolo tranquillo improvvisamente arriva suo fratello qui aveva molta fiducia e che lo aveva molto aiutato a far introdurre la moglie negli ambienti di Buckingham Palace che gli dice che è una figa di legno scusate il modo di dire ti è caduta la tessera del Rotary ah ecco deve essere quello e che i loro bambini sono infelici che è un modo di perpetuare l'infelicità della loro madre e poi va a raccontare in quel libro The Spare tutte le loro rogne metà inventate da Möringer cioè l'estensore perché veramente io il libro l'ho letto l'ho letto anche due volte perché a un certo punto non sapevo se ridere o piangere cioè c'è un momento in cui dice a causa del destino io non potrò più cavalcare con mio fratello nell'esoto cavolo sono problemi seri tutti noi non possiamo più cavalcare nell'esoto cioè capisci è una tragedia senza paragone senza confini e allora è difficile quando hai così tanto infierito forse se con un po' più di buonsenso avesse seguito l'enorme il modo di fare di molti principi anche svedesi che si sono trasferiti negli Stati Uniti appunto per crearsi una vita indipendente Harry non aveva del tutto torto a non volere fare la decalcomania del fratello per tutta la vita e hanno evitato di scrivere libri da fare filmati su Netflix e fare danni del genere forse sì se non avesse fatto tutto in modo tempestoso aggressivo violento poi l'intervista alla Winfrey credo che si sia rotto quel rapporto di fiducia che ci deve essere se uno deve sostituire un altro il padre può perdonare tutto il padre è il padre di sopra probabilmente rivorrebbe indietro i suoi figli ma quell'altro che non dimentichiamocelo il padre è il cancro lui ha un passo di essere re d'Inghilterra tanto contento non è e rischia pure di essere un re vedovo quindi figuriamoci se c'è voglia di aver Meghan tra i piedi viva la regina la principessa Beatrice che tutto sommato si metterà lì e darà una mano speriamo speriamo che non ce ne sia bisogno però ci sono una cioè se torna Catherine io me lo auguro se poteva fare cento impegni almeno per un annetto ne potrà fare quaranta e allora ci sarà bisogno di un'altra donna Camilla ha 76 anni e ne avrà 78 ma c'è bisogno forse anche di altri protagonisti quanti di voi hanno visto The Crown oppure la serie che Luisa ha presentato su Sky the Royals qualcuno l'ha vista qualcuno l'ha vista ecco bravissima brava Francesca giusto Francesco beh perfetto ottimo e l'ha visto qualcuno l'ha visto e le prossime serie su chi saranno saranno sulle due mogli del re cioè resterà ancora il retaggio di Diana in contrapposizione con Camilla perché vista la situazione e lo stato di salute di Catherine c'è il rischio concreto che a eternarla sia lo stato di salute e non il ruolo politico parapolitico che ha ricoperto nella storia d'Inghilterra i Windsor ci hanno abituati a dei cambiamenti di scena talmente che nemmeno uno sceneggiatore fantasioso poteva immaginarsi cioè le due malattie contemporanee sono un colpo gobbo che nemmeno lo sceneggiatore di Netflix più incarognito poteva immaginarsi saranno su altro adesso vediamo perché la situazione è fluida come si dice e poi ci sono i cugini cioè il problema vero è che bisogna riportare la polvere di stelle in famiglia e quella era Catherine a essere reputata qui non c'è altro che aspettare perché è vero che ci troviamo davanti cioè il colpo di scena di due cancri contemporaneamente era inimmaginabile purtroppo ci sono le altre persone i cugini non sono adatti perché nessuno è stato allevato per fare il principe Harry e Meghan stanno negli Stati Uniti e adesso ci sono i bambini i tre principini cresceranno c'è un momento di Stasi questo sì vediamo io sono ogni volta che penso vabbè adesso è finita che cosa facciamo che cosa scriviamo Elisabetta è morta Carlo ha fatto questa incoronazione bam cancro Carlo cancro Catherine cacchio cioè non c'è come si fa ora vediamo che cosa succede però voglio dire sto facendo un'ipotesi che spero non si realizzi e che sia una fantasia pura sottolineo tre volte scrivo grosso caratteri di scatola si diceva una volta se Catherine muore e William sposa Rosa Embury che facciamo 13 volumi sì The Crown deve per forza i sceneggiatori devono tornare subito al lavoro c'è i sceneggiatori che non sono al lavoro mi rendi conto che cosa succede cioè succede un disastro che il recupero di Camilla non è niente ma il fantasma di Diana in tutto questo è stato allontanato o no cioè l'altra moglie del re Camilla è riuscita a a soppiantare il ricordo ingombrante di questa moglie bella giovane morta giovane poverina ma secondo me il fantasma di Diana Diana è lì è come muoiono caro al cielo chi muore giovane lei sta lì il passato è passato l'Inghilterra è cambiata l'Inghilterra di Diana non c'è più gli anni 80 non ci sono più certo ha sempre il suo zoccolo duro di fans e Diana è dichiaratamente il passato ci si chiede che cosa avrebbe fatto col suo carattere empatico delizioso però anche un poco appiccicaticcio e piagnone se mi permettete davanti alle catastrofi che ha dovuto tamponare Camilla con il marito in ospedale il Commonwealth da aprire lei messa lì tutta una ruga però schiena dritta poche parole tutti i compiti da portare avanti e poi questa strana capacità che le è venuta in vecchiaia per cui andava scappava dalla scorta andava a prendere i pupazzi e le cose e la gente le diceva ti vogliamo bene a lei la donna più odiata d'Inghilterra certo non è donna da poter fare mito o da poter anche solo lontanamente soppiantare Diana però al momento c'è lei e le monarchie si basano su questo come i papati morto un papa se ne fa un altro ora c'è lei e non c'è il rischio che gli inglesi cambino il loro approccio e il loro entusiasmo nei confronti della monarchia cioè nella serie che tu hai presentato si paventa The Royals si paventa appunto che in un futuro nemmeno troppo lontano si affacci la Repubblica sull'alba inglese il rischio c'è il rischio c'è come c'è il rischio il tuo fermo immagine sulla domanda e sull'espressione il rischio c'è sarebbe stato un meme meraviglioso il rischio c'è anche se ogni volta che muore un re che ha regnato per molti anni ci si fa queste stesse domande in un libro di Goldsworthy sempre in seguito della saga dei Forsyth ci sono tre pagine ci sono la descrizione dei funerali della regina Vittoria e tre pagine sul fatto se la monarchia inglese sarebbe sopravvissuta alla fine della regina Vittoria quando è morta Maria Teresa quando è morto Francesco Giuseppe poi effettivamente quello non resistete come impero ma c'erano anche degli altri problemi in storia di certo il problema c'è così come ci sono problemi molto gravi però è vero anche che questi sono stati anni di tali terremoti cioè dal decesso di Elisabetta che aveva preparato con estrema calma e certosina tutta la sua successione a quello che è successo dopo il rischio c'è ma è un rischio non è detto che si verifichi può anche darsi sto facendo un esempio anche quello assurdo un periodo ipotetico dell'irrealtà dell'irrealtà che davanti a un'eventuale scomparsa di catering con i tre bambini che seguono la barra ne venga un'onda di cordoglio popolare gigantesco spero naturalmente di stare dicendo semplicemente delle fantasie stupide per chi vuole approfondire ma anche perché questo è come lo spazio consigli per gli acquisti ma anche chi vuole mantenere una pelle giovane in eterno dimmelo chi vuole sapere tutto e adempiere le volontà dell'Europa io consiglio questo libro le due mogli del re della mia partner in crime Luisa Cioni vedo il banchetto al lato del palco dove chi vuole e io alla ripresa consiglio di non perdere una sola puntata dei suoi documentari e del suo tagadà anche perché al di là di queste cose di cui mi occupo io è sempre ricchissimo e pieno di spunti e di cose molto divertenti anche se ho io una proposta perché non facciamo qualcosa su Rasputin beh sarebbe fantastico dobbiamo farlo prossimamente su questi schermi Rasputin seguiteci grazie per averci fatto compagnia in questa apertura di sabato grazie come sempre alla parte tecnica che ci ha permesso di farvi ascoltare al meglio vi lasciamo ai prossimi panel viva Dogliani e come ogni anno io mi inchino davanti alla CUNA no no questo non devi fare I bow only to you quest'anno mi devo inchinare io perché sei tu che avevi tutti e io lo rifaccio cavaliere ragazzi sei biscavaliere però mi inchino anch'io no faccio un corso grazie grazie anche ad Alessio e alla sua bravura che come sempre ha la pazienza di presentare i miei libri io lo ringrazio una volta due volte tre volte compratelo è l'Europa che ve lo chiede è l'Europa sì